Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, con apposito atto, ha revocato l'ingegner Pietro Bozzelli dall'incarico di membro e presidente del Consiglio di Amministrazione della società TEAM Teramo Ambiente, la partecipata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani. La decisione fa appello ad alcune motivazioni espresse chiaramente nel decreto. Conflitto di interessi in transazioni con dipendenti licenziati, inadempienze nei rapporti societari, ricorso ingiustificato alle consulenze esterne legali, ma soprattutto scarsa trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza. Per il primo cittadino di Teramo, questa decisione darà nuovo impulso alle attività della società di raccolta dei rifiuti, della quale il Comune di Teramo detiene la maggioranza delle quote azionarie e di cui, secondo lo statuto, designa i membri del CDA. La decisione non semplice e anche dolorosa, come si legge nella nota del Sindaco d'Alberto, giunge alla luce delle valutazioni che l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover condurre nei mesi passati, all'essito delle quali appare improrogabile l'urgenza di individuare una nuova governance che sappia sviluppare una decisa attività di rilancio e riqualificazione, dando nuova efficacia all'operatività dell'azienda, certezze occupazionali per i dipendenti e chiarezza nella gestione tecnico-amministrativa. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il nuovo avviso per la richiesta delle candidature e comunque l'amministrazione continuerà a garantire che l'attività della Team proceda regolarmente.